Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Scopri il futuro di ogni episodio con corrispondenti CBS News e produttori in post-mortem. Un'esercizio di deep dive. Scopri il futuro di 48 Hours, dovevi ottenere i nostri podcast. Allora questa è quella canzone che si classifica come l'anti-hit estiva, che però allo stesso tempo poi rischia di diventarla a suo modo, cioè diciamo che rischia di sedersi in quell'Olimpo che sono le canzoni più ascoltate, più cliccate, più streammate dell'estate per un ragionamento molto semplice. Allora Takashi e Ketra devono comunque ogni anno, in questa fase dell'anno, fare una barra due canzoni che insomma li fanno campare poi tutto il resto dell'anno. Non è vero, sono il duo dei produttori più forti. Però devono timbrare il cartellino. E' più una questione mentale, morale, di mentalità. Noi quest'estate ci siamo e puntiamo al numero uno. Quindi anziché diciamo fare la classica canzonetta e metterci appunto Elodie, che ne ho parlato due minuti fa, non lo so chi altro, chi altro è? Giuseppe Ferreri, Baby K, questa gente qua. Dici giochiamo al contrario. Prendiamoci innanzitutto il ritorno di Da Supreme sul beat, che è un po' che Da Supreme non fa un traccione. No, scusate, Da Sup. Mo' è Da Sup, così, scritto così. Quindi insomma, è Da Sup che non... Da un po' che non faceva la strofa, quindi c'è sempre hype quando Da Supreme esce con un nuovo brano. Mettiamo una strumentale a chiappa masse. Ci abbiamo sentito dal telefonino, non è che ne capisco bene la potenzialità, però questa roba qua se tu la pompi da un impianto ti copre un bel target, perché te la fa pompare che ha un sound comunque anche rivestito un po' di underground, perché va tutto messo nella miscela. E poi che facciamo? Ci mettiamo la classica strofa di Salmo, e qui glielo voglio dire in faccia a Salmo. Salmo, tu vuoi fare tanto l'anticonformista, l'underground, no? E lo sei, per attitudine. Però adesso sei diventato uno stereotipo. Sei anche tu un meme. Tu sei quello che fa la strofetta da featuring, proprio in stile rap, ma il rap inteso per tutti. C'è quella roba proprio che non c'è niente di underground, niente di alternative. Salmo nasce in quel modo. Quindi nel senso, in questo caso viene preso, messo lì, lui si lascia prendere e mettere lì. E diciamo che è come se avesse due facce Salmo. Quello dei suoi dischi, quello che fa il film, blocco 181, che poi qualcuno sia andato veramente a vedere la serie di Salmo, perché sti personaggi poi crollano tutti quando fanno gli attori, perché la recitazione, da cinema soprattutto, non si improvvisa. Si vede che sei un feccone. Ok? E questo è importante da dire come è fatto, secondo me. Perché, insomma, difendiamo un attimo il cinema. Ognuno faccia il suo mestiere. Ognuno faccia il suo. Importante. Perché adesso, giustamente, uno che ha una grossa community come Salmo, uno che ha un network della Madonna, uno che è famoso, popolare, lo metti lì. Però, secondo me, è un po' sfigura. È un'esperienza difficile. Nel senso, cioè, lo acchiappi. Se tu lo prendi, gli fai fare due anni i laboratori di Francesca De Sappio a Roma, al Duse International, Salmo ti fa il film coi controcoglioni. Ma se tu acchiappi Salmo l'artista, che già uno è difficile da lavorare, uno che deve iniziare a recitare. Se poi sei già un personaggio, insomma, sei un artista, poi, quindi hai una creatività da vendere, hai una grossa personalità, che cazzo ti faccio recitare? Io, regista, no? Esce lui che fa se stesso e che non... Poi, io sono il primo. Io, l'ultimo cortometaggio che ho fatto, interpreto me stesso. Non sono nessuno. Figuriamoci. Quindi non è una... Non è per dire che magari se hai l'ego più importante, più imponente, non puoi recitare o non puoi fare un qualcosa. Semplicemente che vieni usato come prodotto perché non sanno più come vendere queste cazzo di serie in stile crime che non vuole vedere più nessuno perché non sono più credibili. Dalla terza stagione di Gomorra hai finito quel genere e io Gomorra poi l'ho visto fino alla quinta stagione. Quindi metti sto salmone, gli fai fare la strofetta che ormai è un meme, la seconda faccia di Salmo, quella commerciale e quindi ottieni un mix pazzesco, letale che può competere. Secondo me però sta canzone andrà forte all'inizio perché uno ha la curiosità di sentire, di capire il prox, la promozione. Però boh, vedete, Salmo è l'ultimo disco che ha fatto che sono tutti i featuring, lui praticamente è una traccia, è una compila, la compila appunto della serie. Ci stanno tracce come quella di Noiz che è porco Giuda, cioè Salmo ha fatto la direzione artistica del progetto, quindi big up, chapeau, anche lì ha spaccato Salmo, spaccato, ma tutto il disco ha una sonorità po' di latina, ma in latina non c'entra in cazzo, però ci siamo capiti, America Latina, Messicana, no? C'è quella, c'è quell'immaginario lì, ecco il suono, perché poi no, suonare il pop comunque, pop new school, Però, insomma, quando poi fa sta strofetta è lì che la credibilità ce l'hai e non ce l'hai, la mantieni, da curiosità, e quando fai le variazioni su questi personaggi ti puoi sbizzarrire, e quindi c'è la traccia molto sperimentale con The Supreme, che comunque gioca con i suoi, con le sue parole, che ha rotto pure un po' il cazzo, però è fortissimo, ed esce una canzone che a fatti concreti può spaccare, spaccherà, gli auguro di no, auguro a questa canzone proprio di sprofondare negli abissi, così la prossima quando riprendono Elodie e Giussi Ferreri, e fanno una mega combo, Elodie, Giussi Ferreri, e Baby Kay, un'attrice micidiale, facciamo la super tris, ci prendiamo le radio, però lo facciamo senza maschera, senza fingere, però questa canzone può essere appunto l'antitestiva, quella che non passa a nessuno più di tanto, ma che nell'ombra, nel mercato nero dello streaming, giri ovunque, e faccia numeri spaventosi, e c'è la madonna, ah, ancora questa canzone ha spaccato, non l'ascolto, non lo sapevo, ma non l'ho sentita mai, come si usa a dire, e questo è quanto,